Salve ladies and gentlemen, io sono Phoenix e vedo il bentornati su Batman Arkham Asylum. Sì, stiamo registrando un secondo episodio direttamente dopo quell'ultimo che avete visto e... Vediamo un po' che succede, perché mi sono venuti fuori i comandi... Oh, finalmente vedo delle impronte. La vedo dei nemici. Ah, uh, creepy. Ma dai! Siamo quasi saliti di livello, per caso? Sì, di qua, andico, è corretto. Non so, sarà Joker che si lavora a qualcuno. Sì, l'odore non mi piace. Crede di essere Dio. E' fattato. Ti apro un po' nel petto. Così? Sì, scusate l'incertezza. Ho avuto qualche dubbio sull'ultimo. Pensavo mi avrebbero sparato subito. Ok, allora, 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 allora. Cerchiamo qua. Beh, il più semplice del previsto. Molto bene. Ai, dai, 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 dai che ci siamo. Non so se non so come investire il prossimo punto abilità. Ovvero sul semplificare questi cosi. Apriamo. Uh. Allora, dobbiamo sfruttare i bata, bata, bata rang. E soprattutto lo visuale da detective. Allora, sto qua passa dritto sotto il gargoyle. Per cui lo eliminiamo così. In modo easy. Questo possiamo eliminarlo. I studiati sono distratti da quell'altro. Così. Molto easy. Io ho trovato qualcuno da questa parte. Ok. Avremmo. Quattro avversari ancora. Questo si è posizionato in modo facile. Merda, merda. Ok. Mi stiamo passando sotto il naso. Non si stanno causando di nulla. Perfetto. Ne rimangono tre. Che sono terrorizzati. Allora. Vediamo. Riesco a farti un capo invertito. Sì. Grande. E ne rimangono due. Forse è meglio concentrarsi sul nemico. No. Non tutti i collari. Per cui è inutile. Quindi tutti quanti chiederanno aiuto. Noi ci mettiamo da qua. E... Ok. Sta arrivando lì. Quindi... Calcio volante. Rotante, no? Via. Biac. Oh, sì. Perfetto. Impronte digitali adesso. Da che parte mi fate andare? No, noi veniamo da lì. Hmm. Ok. No. È salita. Harley è salita. Quindi dobbiamo andare di qua. Sì. Il mio polso. Devi mettere fine a tutto questo. Prima che sia troppo tardi. Che cosa? Ma se sono tutti curiosi di vedere la mia prossima mossa. Lassiamo andare subito. Davvero? Davvero? Ok. Se lo dici tu, Batman. Puttatevi. Per favore. No! Eh. In effetti ha fatto quello che abbiamo chiesto. Dovrai accelerare le cose, Batman. D'accordo. Passo non mi prenderai mai. Hmm. Ok. Devo togliere la corrente a questa stanza. Dobbiamo togliere la corrente. La corrente. Come facciamo a togliere la corrente? Bella domanda. Allora, mi fa arrampicare lì. Qua è un passaggio? No. Assolutamente no. Però, abbiamo questo coso che va anche di qua. Questo non ho notato. Sì. Hmm. C'è l'esplosivo. Allora, proviamoci. Ah, no. La serviva soltanto prima. Ok. Di qua. Di qua. Di qua. Apriamo. Siamo giusti. Perché là ci sono le dentiere del Joker. Ok. Punto abilità. Potenziamento. Quindi adesso riprendiamo questo. Potenziamo un po' l'amplificatore di critografia. Perfetto. Sì, il coso critografico. Oh, Harley. Quanto adoro Harley. Ehi, Harley. Eevee. Poison Eevee. Infatti, mi piange ogni volta il cuore. Ogni volta che vedo una brutta cosplayer di Eevee. Che cosa vuoi dire? Basta, per favore. E la Madonna. Io non centro niente. Non posso aiutarvi. Ritieni. Paffa. Ah. Cali. Non farti colpire, idiota. Poveri pazzi. Non avete possibilità. In effetti. Ai 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 ai. Ragione. Così. No. No, no, no. Che stai a fare? Dai. Posso occuparmi di te, finalmente, in santa pace. Via. Peccato che non possono colpirsi tra di loro. Sì, è stato divertente. Via. Basta, mi distrai. Non hai più tanto il bulletto senza la tua arma e lei, il tuo taser. Oh. Finalmente. Molto bene. Welcome così finite come batteria. Un attimo. Prima prendiamo questo. Oh. Di nuovo. Grande. No. Dià mio. Me li ascolterò per conto mio. Uh. Cosa stavano facendo qui dentro? Quelli che non mi stavano pestando sono andati da quella parte ad armeggiare con le centraline elettriche. Non ho capito bene. E se il manutentore? Allora. Da che parte? Da che parte? Quanto pare giocare mi hanno messo questa centralina. È la più difficile di prima, ma è un rischio che devo correre. Però noi abbiamo potenziato il nostro crittrog... Crittografo. Beh. Molto easy. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto assai. Ok. Qua non c'è nient'altro. Bene. Bene, bene. Adesso vediamo di andare avanti ancora un pochino. Esattamente. Dici? Sempre se non ti fermo io prima. E non c'è nient'altro. Uh. Brutta come scena. Un giorno glorioso. Non vedo nulla. Beh, glorioso sì. Deve essere glorioso da vedere, ma... Brutta come scena. Inoltre dire che non possiamo permetterglielo. No! Così. Punti. Esperienza. Easy. Via. Tutto ciò. Oh. Quanta potenza in queste dita. Perfetto. Qua non c'è strada chiusa. Ok. 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 Oh. No. Di qua. Sì. Uh. No. Sarà sbagliata. Di qui. Perfetto. Via. Hopla. Bella. Molto bene. Ok. Di qua? Sì. Perfetto. Lì era la porta chiusa che ha distrutto prima lui. Molto bene. Sì. Perfetto. Punto. Non possiamo salire. Perché c'è il coso pericolante. Mi ricordo una parte del genere che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Questa. 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 ok in che modo così vediamo di salire le scale di qua no di là proviamo di qua ok perfetto abbiamo trovato una porta d'accordo così e smettetano di prenderla con i manutentori diamine bigliaccio tu stai bene? perfetto si sta bene ok impronte digitali ah qualcosa mi dice che avremmo che fare con Poison Ivy la mia dorata Poison Ivy Red Dead Wind un'altra cosa del genere no è odioso Saz no quindi non devo farmi vedere guarda se senti scattare un collarino significa che Batman è qui gli uomini di Joker indossano il collarino di sicurezza il primo da eliminare è l'operatore Batman è praticamente morto in che modo però? allora come lo raggiungiamo l'operatore dici? proviamo così questo che è direttamente sotto l'operatore se non sbaglio facciamo un tentativo tanto male non fa di sicuro maledetto Saz non è lui non è l'operatore forse si si è lui ok con calma stai dicendo che facendola così era molto molto più easy ma dai diamine sull'ultimo potrò stronzata ok perfetto loro sono salvi buona lì e infermieri portati in salvo ottimo Joker ha previsto la sorveglianza all'ingresso dell'impianto produttivo di Titan dovrò seguire la pista di Harley per trovarlo ok ok no noi veniamo da qua quindi facciamo così arrampichiamoci e apriamo la porta che cos'è d'accordo in questo modo due e tre ottimo non ho capito cosa abbia passaggio segreto buono molto buono così vicino fantastico e cutscene grandi no please dio che senso oh oh Cristo io devo affrontarli ah così così via oh mi hai investito malissimo oh eeeh si ciao ok io dai picchiamo il tuo amichetto sembra che c'è il mio crinning ma non è vero è solo una casualità oh via ok schializziamo è brutto da dire veramente brutto e va molto molto razzicchio va va bene così oh 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 con quale abile mosso non ci siamo salvati perfetto no oh ok combattimento in pratica è lo stesso che non contro Bane di parecchio tempo fa ok tu avanti 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 verso di lui verso di lui così oh grande no girati girati di là di là di là di là no quanta ignoranza quanta ignoranza vai vai così hopla via allontaniamoci ar no no ma dai così uh uno è morto meglio e cappa o non è morto ok via siamo ancora dei batman buoni che rispettano la legge eh sì solo picchiamo la gente a lasciarla quasi morire per le fratture le emorragie interne ma va bene così ok ok ottimo sempre pensare che può andare peggio sempre pensare che può andare peggio la soluzione sta nella pianta e c'è solo una persona ad arkham che può darmi una mano cosa ti fa pensare che ivy sia disposta ad aiutarti se le sue piante sono in pericolo mi starà ad ascoltare ho il campione della sua firma alfiorormone deve essere nei giardini la troverò ok allora 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 vediamo un po' che se può fa' devo iniziare questo vorrei poter uscire avrò bisogno di qualcosa per superare questo oh ok quindi mi stai dicendo che ancora non possiamo raggiungerla ecco l'arrivo di un nuovo gadget ti immagino non potrei chiamarla prima contro quei bestioni no seriamente grazie Alfred per il giocattolino nuovo lanciacavo perfetto 100 metri simpatici simpatici dati tecnici molto bene molto bene stupendo molto bellino come gioco lanciacavo dove ce l'abbiamo? di qua perfetto possiamo puntarlo ok immagino che diventi voglio prendere qua uuuu fico carino mi piace mi piace mi piace yep spettacolo spettacolo ok allora immagino che dobbiamo andare di qua vediamo di uscire da questa stanza e poi sono tutti morti Joker si è dato da fare mentre l'ottavo contro i suoi mostri pagherà per questo ok capisco il punto di vista però erano pur sempre dei tuoi nemici possiamo vederla anche così allora 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 di qua ok no errore allora abbiamo trovato uno sparacavi per qualcosa tutto sommato ok ok così è così perfetto questo lo raccogliamo molto bene oh molto bene altra cutscene va tutto bene tesorucci ci sono qui io adesso povere piccole sì lo so che ci ha scoperte ma non gli permetterò di farvi del male l'ho ucciso no sei così bella è sexy è bella è sexy no dai no dai sei stata troppo al buio ogni pianta di questa isola riceverà lo stesso trattamento se non collabori c'è una pianta che cresce nelle viscere dell'isola di arkham è in grado di annullare gli effetti di questa variante di titan dove si trova nella tana di killer croc ma se fosse solo un po' più gentile magari ti avrebbe aiutato di più torna nella tua cella altrimenti dovrai vedertela con me ti aspetterò eh ok scusate come si può rifiutare un invito da ivy ok e non è una cosa piacevole ho trovato una porta vicino alla batcaverna ma è sigillata deve esserci un altro modo di entrare ho lasciato la guardia cash nella residenza spero che lui possa illuminarmi sulla tana di croc quanti sono? tanti otto ok per cui direi quindi che per oggi possiamo concluderla qui e grazie mille per aver visto il video spero che non sia stato troppo lungo troppo tedioso per cui alla prossima ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti